Curiosity, storie bizzarre e reali dal mondo. Ciao amici, quella che vi raccontiamo oggi, è la storia di uno scavo misterioso, apparso in una fattoria. Una buca, dai bordi irregolari, profonda mezzo metro e larga 2 metri per 3, apparve nel dicembre 1984 nel terreno di una fattoria a Gran Culee, nello stato di Washington negli Stati Uniti. Seguendo tracce di terriccio, che partivano da lì, fu scoperta, a 20 metri, una montagnola di terra ricoperta d'erba. Sembrava che la terra fosse stata rimossa con un gigantesco cucchiaio, se non che le radici delle piante, pendevano intatte, sia dai lati della buca, che da quelli della collinetta. La mancanza di tracce di veicoli portarono ad escludere un intervento meccanico. Molte le supposizioni, la più fantasiosa quella dell'avvento di qualche forma extraterrestre. Ma tra le ipotesi più stravaganti, la supposizione più realistica era. Quella di un curioso smottamento sismico, che partito da un leggero terremoto registrato a 30 chilometri di distanza una settimana prima, aveva creato il curioso scavo. Resta l'ipotesi, perché non si è mai giunti ad una risposta ufficiale esaustiva che chiarisse l'accaduto. Se vi piacciono le nostre storie, e tante altre curiosità, presto nascerà, Curiosity, un nuovo canale di Viral Video Italia. Al prossimo video amici, commentate e lasciate un like per noi.